Oggi è una giornata estremamente importante per la Fondazione perché come ormai è diventata una tradizione abbiamo il PECD Day. Il nostro investimento sulle attività del dottorato sono in crescita negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di creare una base per le nuove generazioni in modo che possano avere una formazione di dottorato che non solo accademica ma anche molto collegata alle attività del fare. La Fondazione indubbiamente è la struttura che meglio di ogni altra può operare in questa direzione. Il fatto di aver costituito un programma di dottorato e quindi avere attività che sono distribuite nel corso dell'anno su questo è un altro elemento di caratterizzazione della Fondazione che sta veramente determinando un cambio di marcia sul tema della ricerca. Grazie a tutti!